Si ferma di fronte al Palazzolo La Corsa, al secondo posto dell'Accademicatane dopo l'exploat di Gela per 4-0 firmato da un triplo Gioele Privitera e da Alessio Toro. Se però consideriamo che poteva scapparci anche la sconfitta, rimediata 20 minuti dalla fine dopo un predominio territoriale quasi netto, un punto per proseguire la scia positiva in casa Nerazzurra che dura da 5 giornate, è stato conquistato nella consapevolezza di aver dato tutto e può considerarsi una discreta iniezione di fiducia in vista delle ultime due gare del girone d'andata contro Invictus fuori e scordia dentro in quello che sarà un vero e proprio tour de force, visto che l'impegno di Mascaluccia sarà posticipato al 13 dicembre e la gara successiva sarà in programma il 17 a Mister Bianco. Dall'altro lato qualche giorno in più per recuperare energie e idee, guardando magari i movimenti degli avversari e delle dirette concorrenti. La partita del Trucciolapiana è fatta in sostanza dall'Accademicatene che prevale sul piano del gioco e delle occasioni. Alessio Toro al lancio per Privitera che viene fermato in uscita da Popa, Caruso la riprende e porge a Condorelli un pallone da spingere solo in rete, invece si perde alto e sfuma l'1-0. Dalla bandierina Privitera respinge il portiere, Gabriele Toro in equilibrio carica il destro che però si rivela strozzato per poi riprovarci in una giocata da tiro a bersaglio insieme a Nigro, niente da fare. I gemelli Toro poi al triangolo ma con poca cattiveria sottoporta che non fa crollare il palazzolo, sempre comunque sotto pressione dell'Accademic alla mezz'ora quando Condorelli scarica su Alessio Toro, dietro per Nicolosi, profondità per lo scatto di Condorelli che conclude sull'esterno della rete. Di nuovo i Toro a cercarsi, Alessio è il terminale di questa strepitosa girata che Popa salva in volo evitando di nuovo il K.O. Il palazzolo predilige le giocate di rimessa, Patrick si presenta tu per tu con Ghiaria che salva in maniera provvidenziale per poi spezzare i sogni di vantaggio di Brinzi che lo ha dribblato due secondi prima. Insomma un pericolo ingombente e nell'aria e al 42esimo si materializza per via di questo scontro tra i numeri due, cioè Pulvirenti dell'Accademic e Martorina del Palazzolo per l'arbitro Rizze di Catania e intervento da punire con un calcio di rigore in mezzo alle proteste dei padroni di casa. Ghiaria fa un altro miracolo, meglio dire mezzo, neutralizzando parzialmente la conclusione di Ziccone. Palla in rete e Palazzolo in vantaggio a fine primo tempo per 1-0. La ripresa inizia subito con un cambio fuori Caruso dentro Farinato, soluzione offensiva del tecnico Franco Spina per riprendere la partita che la squadra continua a fare rischiando però di concedere spazio agli avversari. Ghiaria mantiene l'Academic in vita con tre interventi nel primo quarto d'ora. Poi c'è spazio anche per Rettucci in campo che impegna prima dalla distanza Popa, poi suggerisce per Farinato, anche lui da lontano, senza sviluppi. Al venticinquesimo Palazzolo in dieci Patrick entra così su una gamba di Leotta e il secondo giallo. Gli costa l'espulsione con l'uomo in più a questo punto l'Accademicatene ci crede e inizia a spingere in maniera incessante. Lancio di Leotta per un altro neoentrato, Spadaro ma in zona gol si rimane ancora a secco. Vano il tentativo di Nigro a gioco fermo. Debole a seguire una punizione di Privitere, finalmente a 20 minuti dalla fine il sospirato pari. Punizione di Tucci lunga per Mattia Leotta che di testa centra il bersaglio. consente all'Academy di uscire in battuta sul proprio campo a coronamento di un assalto che si era fatto insistente già da diversi minuti. Per Leotta è il primo gol in campionato. Nel finale una chance per parte. Prima Gabriele Toro e Spadaro porgono a Tucci la possibilità di esplodere un tiro al volo. Letto bene dal portiere ospite e dall'altra parte in un classico contropiede. Ziccone se l'allunga quasi davanti a Ghieria consentendo a quest'ultimo di bloccare a terra. Al Toruccio Lapiana Accademy Catane e Palazzolo finisce 1-1. Siamo entrati con la testa sbagliata in campo però poi diciamo che ci siamo sistemati e quindi abbiamo ripreso questa partita alla fine combattendo fino all'ultimo. Cercheremo naturalmente di arrivare nei primi posti e nelle prossime partite di vincerle tutte e non di entrare con la testa di questa partita. A parere mio il calcio di rigore è inesistente però comunque la colpa non la dobbiamo dare soltanto su questo episodio perché ci siamo mangiati molti gol ma comunque testa alle prossime partite. Cercheremo di vincerle tutte.